Andiamo al segno dello scorpio. Allora, cari scorpioncini, certo questa è una luna che semina zizzaia nei rapporti matrimoniali, nei rapporti casalinghi, tra le pareti domestiche, e poi attenzione perché proprio per la casa magari c'è bisogno di fare un piccolo investimento. La classica giornata in cui ci può essere qualche piccolo incidente, si rompe la caldaia, faccio un esempio, bisogna chiamare il tecnico, quindi investire del denaro, dei soldi. Ma evidentemente erano cose necessarie che avevate rimandato per troppo tempo e che adesso, insomma, vi trovate costretti ad affrontare. Ma state sicuri che una caldaia nuova alla fine vi farà anche piacere perché l'acqua calda arriva meglio, perché i tormosifoni scaldano meglio.